Buonasera, grazie di essere qui con me. Oggi ti invito a giocare. Dirò delle parole e delle frasi prima in un orecchio, poi nell'altro, con un tono di voce sempre più basso e con dei disturbi sonori e tu dovrai indovinare cosa dico. Fammi sapere nei commenti cosa capisci, ok? Sei pronto? 3, 2, 1, iniziamo. Sinistra Ministra Minestra Finestra La ministra mangia la minestra e mi guarda fuori dalla finestra sinistra. Un pinguino, pingue, pinne, pigne. La finestra non c'è la minestra, mi guarda fuori dalla finestra e la finestra. Un picco del pinguino, un picco del conto delle pinguine, un picco del conto delle pinguine, un talito del pinguine, un dito delle pinguine e un pedale, un tudo di del lotto del nonno. Un dettivo di pinguine, un po' di solava le pence. Sì Ok, quello era il lato sinistro. Fammi sapere nei commenti cosa hai captato. E passiamo all'altro lato. Pezzo, pizza, pizza, panza, con la pizza, pezzo di pizza per riempirsi la panza coperta di pizza. Il pezzo di pizza per riempirsi la panza coperta di pizza. a pelle, figlio di apolla, fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci che avevano accanto per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio di apollo si attenzu che si è anche storti, dentro la palla, tutte le azze strutture, le azze strutture una rara rara, la palla di pelle, un po' stacca non posso poco cupo, figlio di specchio, un po' l'opo che non ho poco cupo, posso, quando guarda il dico, ho avuto un po' e me lo so, ci sono un po' palla di pollo spero a conto, un po' sbagliato, fa bene e guarda il mio prodotto, è come creda lo gesce con lui e sblocco tra lì, il resto dell'ossi, quando si sbagliati lo suo e lo sbagliati in una baragossa e lo sbagliati in una barocca e lo sbagliati in una baracossa Prima di augurarti tanti sogni d'oro vorrei fare un conto alla rovescia che li imbalzi sempre da un orecchio all'altro per solleticarti un po'. Prima di augurarti tanti sogni d'oro, alla prossima. Ciao, ciao!